Serata di Coppe Europee anche per la pallavolo femminile alle 18 a Istanbul. Novara tenterà di raggiungere la finale di Champions alle 20.30 e invece Scandici proverà a mettere le mani sulla Coppa Cev. Sentiamo Marco Fantasia. Basteranno due set alla Savino del Bene questa sera per mettere in bacheca il secondo trofeo della sua storia recente che sarebbe anche il secondo in due anni dopo la challenge della scorsa stagione. Il mirino quest'anno si alza e punta alla Coppa Cev, il secondo trofeo europeo per importanza dopo la Champions alla quale Scandici vuole partecipare il prossimo anno, magari dopo essersi cucita sulla maglia lo scudetto. L'obiettivo dopo il 3-1 ottenuto in trasferta nella gara di andata è ampiamente alla portata. Basterà non distrarsi contro l'Alba Blage che in Romania ha alzato la testa solo nel terzo set quando Scandici glielo ha permesso abbassando ritmo e qualità dei colpi. Coach Barbolini anche in questi giorni, stretti tra l'ultima giornata di campionato e l'inizio dei play-off, ha fatto il suo mestiere gettando acqua sul fuoco dell'entusiasmo per non permettere cali di tensione tra le ragazze. Grazie al regolamento permissivo sull'uso delle straniere, il tecnico potrà utilizzare senza limiti le sue bocche da fuoco, senza dimenticare le eccellenti giocatrici di passaporto tricolore, da Pietrini a Merlo, da Mingarbi a Di Giulio. Il gruppo arriva da una battaglia nel derby di campionato contro il Bisonte Firenze che ha permesso di tenere alto il livello di guardia. Subito dopo l'Alba Blage sarà tempo di pensare ai play-off scudetto che cominceranno domenica in casa contro Bergamo. Ma intanto l'appuntamento con la storia è alle 20.30 in diretta su Resport dal nuovo Palazzo Vanni di Firenze che si preannuncia esaurito.